Chi invita a non vaccinarsi, invita a morire. Una posizione, quella di Mario Draghi, che più dura non si potrebbe. E che agita ancora di più le già increspate acque della maggioranza costringendo la Lega a definirsi, sorpresa, dalle parole del Premier. È in effetti, quella di ieri. Non è stata una gran giornata per Salvini, che dal Consiglio dei Ministri riesce ad ottenere ben poco, ristori per i gestori delle discoteche, che non riapriranno tampone a prezzo sociale nelle farmacie e innalzamento al 50% della quota di pubblico per eventi all'aperto. Un bilancio non esaltante, come non manca di sottolineare un commento di Giorgia Meloni. Io non credo che la Lega possa fare grandi cosi al governo con PD e M5S ha puntualizzato la leader di FD. Apprezzo il suo tentativo di battersi, ma mi sembra che alla fine siano gli altri ad avere la meglio. E ancora, Salvini è soddisfatto? Io no. Sottolineature della sconfitta, del Carroccio sono venute anche dal PD. In realtà, il leader leghista non si era limitato solo a esternare la propria sorpresa per la sortita di Draghi. Parole aspre e puntute all'indirizzo del Premier le aveva pronunciate anche lui. Queste, comunità scientifiche governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna che invitano alla prudenza, invitano forse a morire? Per fortuna no. Il riferimento alla prudenza, serviva a Salvini per accorciare la distanza con il Premier quasi un tentativo di recuperarne la scia. Ma la realtà è che il governo ha scelto la linea dura, dal 6 agosto Green passo obbligatorio da 12 anni in su per accedere a ristoranti al chiuso, eventi e sport, seguito da multe fino a 1000 euro per le violazioni. Stupisce, soprattutto, l'abbassamento dell'età. Era quello lo spartiacque immaginato da Salvini per tenere distinta la linea della prudenza, dagli abissi Novax. La mossa di Draghi lo costringe ora ad aggiornare una posizione decisamente superata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.